Grazie Presidente, anche io ringrazio il Consigliere Maormair e tutto l'Ufficio di Presidenza della Seconda Commissione per aver elaborato questa mozione, che è veramente il frutto di quell'incontro che abbiamo fatto, quella bella lunga mattinata di confronto che abbiamo fatto a Lignano-Sabbiadoro con la Sindaca e non solo la Sindaca di Lignano ma anche la Presidente della Top 20 delle città balneari di tutto il territorio nazionale. Abbiamo fatto un lungo approfondimento, lungo approfondimento che riguarda non solo nello specifico queste località che sono sul nostro territorio, ma proprio un ragionamento a larga scala e la ricchezza che queste località danno non soltanto in termini economici al nostro paese, una ricchezza culturale, una ricchezza turistica e che purtroppo si ritrovano a non avere gli uffici adeguati, i comuni, questi comuni si trovano a non avere degli uffici adeguati perché la legge prevede che comuni con 7.000, 5.000 e pochi abitanti debbano essere dotati di un determinato numero di tecnici. Questo ovviamente è uno dei grossi problemi di gestione di questi territori. Altra cosa che è emersa è la questione della ricchezza che viene, che si trae da questo grande afflusso di turismo. Ecco, e che è stato evidenziato insomma che sarebbe utile trattenere parte di queste tasse nelle casse di questi comuni. Ecco, io credo che dobbiamo fare un po' di attenzione, e l'ho anche esplicitato alle due sindache che erano presenti, perché se noi chiediamo denaro anziché servizi, poi chi dovrebbe erogare servizio si rischia di lavarsene un po' le mani e dire ma noi ti abbiamo già dato la disponibilità di tutto questo denaro, a questo punto magari arrangiati da solo. Ecco, questo io credo che sia il rischio che non dobbiamo correre, dobbiamo fare in modo che questi comuni non si sentano abbandonati, ma soprattutto che gli abitanti e i cittadini di queste località non si sentano abbandonati, soprattutto nel periodo in cui non c'è il grande afflusso di turismo, perché i servizi che ovviamente sono destinati a una popolazione di 7.000 abitanti sono comunque purtroppo pochi. Vorrei fare un piccolo passaggio su quello che abbiamo discusso per grado e sull'istituto comprensivo scolastico, giusto proprio per entrare anche nello specifico di che cosa vuol dire gestire questi comuni, ecco anche il comprensivo di grado come è stato fatto per quello di Lignano deve avere la sua dignità. Scuola, servizi sanitari e infermieristici eccetera, devono essere comunque servizi che siano dati anche per una popolazione che arrivi ai 200.000 abitanti. Ecco, in quest'ottica ovviamente anche Alleanza Verdi e Sinistra approva con voto favorevole questa mozione.